C'è un indicatore importantissimo che ci dice che l'economia non sta più andando bene come prima. Lo sapete qual è? È la battaglia che le catene di fast food come Burger King e McDonald's si stanno facendo sui prezzi dei loro menù. Questa guerra che ha l'obiettivo di attrarre sempre più consumatori nei loro ristoranti, se possiamo chiamarli ristoranti, sottolinea la pressione che c'è tra i consumatori che oggi sono sempre più attenti a dove spendono e come spendono i loro soldi. Stanno valutando di rinunciare a mangiare fuori proprio a causa dei prezzi e delle pressioni inflazionistiche sempre troppo alte. Sembra che il grido sia siamo al verde, non ce la facciamo più, cominciamo ad essere preoccupati per la nostra situazione economica finanziaria. Ragazzi vedete il motivo è semplice, i consumatori stanno riducendo drasticamente i loro consumi e le spese e per questo dobbiamo monitorare questi dati perché nei prossimi mesi potremo effettivamente vedere un aumento delle insolvenze che potrebbero portare a situazioni critiche. Perché leggevo questo sondaggio che era stato fatto negli Stati Uniti ma vedrete che la situazione non è diversa in Europa e in Italia. L'80% degli americani, pensate, in questo momento storico considera andare al ristorante in un fast food, quindi il ristorante tra virgolette, lo considera un lusso perché è diventato troppo costoso. Avresti mai pensato che il cibo di pessima qualità non esiste, cibo così economico di un fast food sarebbe diventato e sarebbe stato considerato di lusso in quest'epoca? Beh, del resto, vedete anche se l'inflazione sta scendendo, si parla tanto ormai di traiettoria disinflazionistica, mese su mese in Italia siamo allo 0,8% con i dati dell'Istat proprio di qualche giorno fa. Eppure, se andate a considerare i tassi di inflazione cumulativa, vedrete che alcuni beni e servizi del paniere che viene calcolato per l'inflazione stanno ancora aumentando. Ma che vuol dire tasso di inflazione cumulativo? Beh, ci avrei fatto sicuramente caso, se vai al supermercato e paghi la tua spesa, beh, oggi ti porti a casa meno prodotti. I prodotti costano di più rispetto a quello che costavano prima del Covid nel 2019, no? Beh, è proprio quello l'effetto cumulativo di cui parlo. Guardate questa tabella che ho raccolto, con i dati, questi sono dati italiani, prezzi italiani nei supermercati italiani. Concentratevi su questa colonna, dicembre 2019, e gli ultimi dati disponibili per il confronto sono di dicembre 2023, quindi di fine anno. Considerate che sono aumentati alcuni prezzi di questo paniere. Parliamo di latte, parliamo di farina, parliamo di pasta di semole, parliamo di zucchero, di pasta di pomodoro, olio extravergine d'oliva, caffè, olio di semi di girasole, frutta base, verdura. C'è una cosa che voglio farvi vedere, perché guardate quanto costa oggi uno di questi prodotti rispetto al 2019. Nonostante l'inflazione stia tornando, in Italia credo sia tornata al 2019, il tasso di inflazione cumulativo è questo valore percentuale qua. È molto semplice da calcolare ragazzi, è semplicemente la divisione tra il prezzo attuale diviso il prezzo precedente di confronto, in questo caso 2019, meno uno. E poi per cento per averlo in termini percentuali. Guardate dei prodotti, l'olio extravergine d'oliva è aumentato del 111% in tre anni, dal 2019 ad oggi, anzi nemmeno ad oggi, a dicembre ad oggi è ancora più alto. Lo zucchero da barbabietola è aumentato del 66% quasi, la farina del 46%. E infatti non è un caso che, non so se l'avete sentito, proprio a gennaio, a inizio 2024, Barilla ha comunicato l'impegno di far scendere i prezzi contro il carovita, ma non solo contro il carovita ragazzi, per paura di perdere clienti, che Barilla è un brand molto riconosciuto, ma anche molto economico di pasta rispetto ad altre paste un pochino più lavorate, di qualità più alta. Bene, si è vista costretta a ridurre i prezzi dei suoi prodotti dal 7 al 13%, ok? E lo farà, lo porterà avanti per tutto il 2024. Attenzione ad una cosa però, qui dobbiamo essere bravi nei dettagli, perché questo è lo sconto che Barilla farà al prezzo di listino, cioè il prezzo che applica ai grossisti. Quindi non è scontato che quel prezzo in automatico verrà applicato a noi, nella stessa entità. Perché? Perché le aziende all'ingrosso vogliono cercare di marginare il più possibile. Però ad una cosa devono stare attenti, perché noi consumatori, un po' in tutto il mondo, siamo diventati molto più sensibili ai prezzi. E questo perché? Perché risparmi e stipendi cominciano a preoccupare. E infatti, guardate come, ragazzi, vi riporto il grafico degli Stati Uniti, dove abbiamo a disposizione la possibilità di accedere ai dati in maniera più semplice. Guardate come nonostante i politici in tutto il mondo continuano a dire che i salari stanno effettivamente crescendo. Beh, se confrontiamo i guadagni, la media dei guadagni orari, vedete come sta diminuendo rispetto a questi massimi di aprile? Perché praticamente stanno diminuendo le ore lavorate anche, alcune aziende stanno facendo lavorare un po' di meno. E questo, soprattutto per le persone che si trovano al livello più basso, diciamo, della scala economica, stanno cominciando ad esaurire le risorse. E sono proprio quelle persone che in quella sarve di prima dicevano che il fast food è un lusso e non stanno più spendendo lì. E infatti, la spesa dei consumatori, a questo bisogna stare attenti, in America pesa un po' di più rispetto all'Italia, dove comunque ha un peso importante. La spesa dei consumatori rappresenta il 70% dell'economia, perciò le abitudini dei consumatori hanno un impatto notevole sulla crescita economica. Fondamentalmente, quando i consumatori sono più ottimisti, sono più tranquilli, hanno più fiducia nelle condizioni del loro lavoro e dei salari, spendono di più. E questo stimola la crescita economica. In questo momento sembrerebbe proprio che stiamo andando e dirigendoci verso una situazione in cui sono più pessimisti i consumatori. E stanno rallentando le spese. E questo potrebbe effettivamente continuare a far scendere il prodotto interno lordo, quindi la crescita economica degli Stati Uniti. E le aziende se ne sono accorte. Nelle comunicazioni degli utili dell'ultimo trimestre, lo abbiamo sentito dire da parecchie aziende, McDonald's, Starbucks, Burger King. Per esempio, l'amministratore delegato di McDonald's ha dichiarato che deve essere pronto, devono, scusate, essere attenti ai prezzi. Perché qualcosa nell'economia sta cambiando, soprattutto nelle abitudini di consumo. E quindi hanno lanciato adesso questo menu a 5 dollari. E il problema è che diminuendo i prezzi, il rischio qual è di diminuire drasticamente i margini? Ora, a McDonald's come azienda interessa poco, lo sapete perché? Perché McDonald's gestisce pochissimi dei ristoranti. I ristoranti sono dei franchising. Il problema è proprio di chi ha aperto il negozio, che dice che non è più sostenibile perché i margini sono diventati sottilissimi. E quindi questa offerta a 5 dollari praticamente non permette più di guadagnare. E questo che cosa vuol dire? La possibilità di, per alcuni di questi negozi, di andare in bancarotta. Di nuovo, la bancarotta non è assolutamente positiva per l'economia. E l'avvertimento anche che ha lanciato Burger King, che ovviamente ha dovuto rispondere a quello che McDonald's aveva fatto con questo deal del menu a 5 dollari. Quindi lo ha lanciato anche Burger King. E per contrastare appunto la concorrenza. E il problema è che, lo leggiamo anche in questo articolo, lo leggevo più in basso, non c'è abbastanza profitto per sconti così forti sul menu. E quindi che cosa fanno le aziende? Si inventano un pochino di strategie con i prezzi dinamici. Sembra una parola difficile, ma non è altro che un tentativo di spingere la domanda nelle fasce orarie meno trafficate. Per massimizzare le entrate e per incentivare soprattutto i clienti a spostare la propria attività in orari della giornata che sono più economici. L'ha cominciato a fare McDonald's, l'ha cominciato a fare Taco Bell, Starbucks. Sapete quando magari sei andato in un certo orario, ci sono degli sconti. Oppure sei andato in un certo orario, pagate. Starbucks faceva, mi ricordo, quando erano negli Stati Uniti. Ti compri un caffè, te ne danno un altro omaggio. Ti compri un frappuccino, te ne danno un altro omaggio. Questo vuol dire prezzi dinamici. Di nuovo, i prezzi dinamici però da una parte possono aiutare, dall'altra possono frammentare ancora di più la spesa dei consumatori. E rimaniamo un secondo sulla spesa dei consumatori. Andiamo a vedere il dato che è uscito proprio qualche giorno fa sul Personal Consumption Expenditure, che ha raggiunto un tasso annuo di 19,34 trillion dollar, ma vedete come nell'ultimo periodo si sia un pochino livellato. Quindi la crescita molto forte che c'era stata 2022-2023, adesso si sta cominciando a livellare. Non solo, se aggiustiamo all'inflazione questo dato, vediamo che addirittura sta scendendo. È diminuito infatti la spesa reale, reale dei consumatori, vuol dire quella al netto dell'inflazione, è diminuita dallo 0,1%. Questa è un'ulteriore prova del fatto che l'economia, da molto calda nel 2023, comincia a diventare solo buona, non è più così calda come vedevamo prima. E lo sapete che cosa sta diminuendo? Il cosiddetto disposable income, ovvero il reddito disponibile, che è la quantità di denaro che le famiglie hanno a disposizione dopo aver pagato le tasse. Questo dato, ragazzi, è importante perché riflette, se ci pensate, la capacità di famiglie di spendere, risparmiare o di investire. E guardate, vi faccio uno zoom per farvi vedere come si sta muovendo dal punto di vista del cambio rispetto all'anno scorso. Vedete, sta diminuendo il dato, quindi sta diminuendo questa capacità, perché avendo meno soldi a disposizione si deve necessariamente ridurre la spesa. E di nuovo, questo impatta sul prodotto interno lordo. Quello che non sta più aumentando come prima, proprio perché lo stanno aggiustando meno all'inflazione, è il cosiddetto COLA. COLA, ragazzi, sta C-O-L-A, sta per Cost of Living Adjustment, è un adeguamento dei salari, o in generale dei benefici per tener conto dell'inflazione. Quindi quando il costo della vita aumenta, avviene un cambiamento, i prezzi di beni e servizi aumentano, e i salari vengono aumentati per mantenere il potere d'acquisto delle famiglie, ovviamente, no? Bene, nell'ultimo periodo è stato aumentato del 3,2%, considerate che è un aumento molto, molto più modesto di quello dell'anno scorso, che era stato dell'8,7%. Quindi anche in questo caso, anche questo aggiustamento, che impatta tantissimo nella fascia bassa delle famiglie, è piuttosto basso. E questo che cosa fa accadere? Il risparmio delle famiglie, il personal savings rate, guardate quanto è in basso. Le famiglie non riescono, hanno difficoltà a mettere da parte i soldi. I dati mostrano che, proprio per queste cose che vi ho detto, le famiglie cominciano ad indebitarsi ad un ritmo sempre più rapido. Infatti abbiamo visto come il debito su carte di credito sia aumentato drasticamente in America. E se andiamo a vedere, è uscito qualche giorno fa, la Household Debbed and Credit, che altro non è che un rapporto trimestrale sul debito e sul credito delle famiglie del terzo trimestre del 2024, quello che vediamo è che ha aumentato il numero di mutuari. Non solo è aumentato, ma è aumentato il numero di delinquenti, cioè il numero di mutuari che non riescono a restituire i debiti contratti. E quindi sta aumentando l'insolvenza nel primo trimestre. E questa è un'altra cosa da assolutamente tenere d'occhio. E vedete, questa situazione fotografa una fiducia, un pessimismo che sta cominciando a nascere. Quando nasce un pessimismo, tu cominci a spendere di meno, anche se te lo puoi permettere. Pensateci, no? Vi succede spesso quando sentite ai telegiornali, sentite magari il vostro vicino di casa ha perso il lavoro. E' cominciato a spendere di meno. Infatti la fiducia dei consumatori è scesa drasticamente. E' scesa ai minimi di sei mesi, perché non credono più i consumatori nella possibilità di una ripresa economica. Se andiamo a vedere infatti il cosiddetto excess savings, cioè il risparmio in eccesso, va bene, questo risparmio in eccesso, ragazzi, ormai sta veramente diminuendo. E quindi non ci sono più risparmi che erano stati accumulati durante il periodo del covid a cui i consumatori possono attingere. Vedete, il debito in sé non è pericoloso nel momento in cui è in linea con la crescita dei salari. Ma il mondo del lavoro non è più così robusto come prima. Guardate, vi faccio vedere il Beige Book pubblicato dalla New York Federal Reserve. E a pagina 5 c'è proprio questa parte qua sul labor market. Considerate che il Beige Book è importante perché fotografa la situazione macroeconomica di parecchi distretti negli Stati Uniti, no? Che può essere anche molto diversa. La California, ragazzi, è diversa da New York, è diversa dal Texas, che è diversa dal, non lo so, da un altro stato, no? E quello che viene fuori è che l'occupazione sta aumentando ad un ritmo molto inferiore rispetto al passato. E soprattutto stanno diminuendo le ore di lavoro. I dipendenti sono preoccupati per la loro sicurezza lavorativa. Le aziende non sono più così positive, ottimiste ad assumere. Perché la domanda si sta effettivamente abbassando. E quindi questa incertezza porta ad essere più caute le aziende. Del resto, l'inflazione fa difficoltà a rallentare il PCA, il Personal Consumption Expenditure, che è l'indice dei prezzi della spesa per i consumi personali. Vedete come si è attestato al 2,7% e al 2,8% quello core, escluso di food ed energy. Ma non sta andando da nessuna parte rispetto alle letture precedenti. Siamo sempre lì. Ecco che cosa vuol dire quando si dice l'inflazione è appiccicosa. Non solo in America, ma anche in Europa. Addirittura in Europa l'andamento della disinflazione è stato arrestato. E abbiamo visto anche dei rimbalzi. Perché 2,4% era il valore precedente. L'ultima lettura è 2,6%. L'abbiamo visto anche in Germania. Anche in Germania 2,4% rispetto alla precedente lettura che era 2,2%. Quindi abbiamo sorprese verso l'alto in inflazione. In Germania, in UK, in Regno Unito. Veramente c'è l'Italia, ci sono i paesi scandinavi dove l'inflazione sta continuando a scendere. E tutto questo si traduce effettivamente in una decrescita economica? Sì, perché l'ultimo dato del prodotto interno lordo del primo trimestre, questa è la seconda stima, la seconda stima continua a scendere. Siamo passati da un iniziale 1,6% all'ultima lettura, previsione dell'1,3%. Considerate che questo è il tasso di crescita più basso degli ultimi due anni. E questo andamento solleva parecchie domande, no? Per il futuro della crescita economica, soprattutto se andiamo a considerare quello che stanno facendo i consumatori. Vedete, vi sto raccontando tutto questo di nuovo. Non per mettervi paura, per gridare all'apocalisse. No, ragazzi, solo per creare consapevolezza. Perché dobbiamo, come investitori di breve e di lungo termine, dobbiamo essere coscienti. Dobbiamo sapere cosa sta accadendoci intorno. E sapendolo possiamo monitorarlo. Possiamo vedere se magari migliora nei prossimi mesi, o se nei prossimi mesi questa dinamica continua a peggiorare. Perché questa dinamica influencerà le decisioni politiche, gli orientamenti delle politiche monetarie ed economiche, le politiche fiscali dei governi. E a onor del vero vi dico che queste sono cose che io monitorerò. Ma dal punto di vista attuale, il mio processo, e ve lo faccio vedere qua sul mio portafoglio, per farvi vedere che quello che vi dico è in buona fede. Il mio portafoglio rotazionale, che ha un orizzonte temporale di medio termine, quindi sta a metà strada tra il lungo termine e il breve termine. Aspettate che ve lo faccio vedere. E' ancora altamente posizionato sulla possibilità di crescita degli asset azionari. Quindi ancora non mi sono fasciato la testa. Eccolo qua il mio portafoglio, che negli ultimi sei mesi ha fatto il 17,10%. Quindi da inizio anno, da inizio 2024, ha battuto i mercati, è al primo posto in questa classifica con altri colleghi. Ma vi voglio far vedere, vi faccio vedere qua, i miei posizionamenti. I miei posizionamenti, ci sono tantissime aziende ancora, quindi c'è ancora tantissimo azionario. Lo vedete qua, c'è tantissima tecnologia. C'è ossia XLK, che mi pesa un 0,89%, che il Nasdaq, che mi pesa un 1,92%. Vi faccio vedere le ultime posizioni aggiunte. Ho aggiunto il 31 maggio Adobe, ho aggiunto il 31 maggio AMD, ho aggiunto il 30 maggio United Health Group Incorporated. E quindi, vedete, per dirvi, sto continuando a posizionarmi per un rimbalzo, ma tutte queste cose che vi ho raccontato oggi mi fanno essere più cauto. Mi fanno magari mettere qualche assicurazione nel portafoglio, magari attraverso le opzioni. Mi fanno ridurre il mio profilo di rischio attraverso il position sizing, che magari è meno forte rispetto a qualche mese fa, no? Questo, almeno finché non vedrò tornare liquidità sui mercati. E forse per vedere liquidità sui mercati, dobbiamo ancora aspettare qualche settimana, quando ci sarà il buyback del tesoro americano. In questo momento, ad aprile, la liquidità ha, diciamo, subito una discesa per via di decisioni, non decisioni, scusate, per via di stagionalità. E a maggio è un pochino migliorata, ma adesso dobbiamo aspettare il buyback del tesoro per vederla ripartire. Mi aspetto che quella ripartenza di liquidità sugli asset di rischio si ripercuota positivamente. Bene, ragazzi, direi che è tutto per questa diretta. Noi ci vediamo prestissimo. Buoni investimenti a tutti. Ciao. Buoni investimenti a tutti.